Una delle motivazioni per cui faccio queste recensioni di film e serie tv, che mi rendo conto, come qualcuno ogni tanto mi fa notare, che con il canale c'entrano poco e più improntato alla storia, qualcuno in passato si è anche lamentato, ed è la cosa, ma lo capisco perfettamente, ma uno dei motivi per cui mi piace farlo è perché si arriva in qualche modo sempre a una discussione. E se discutere sulla storia, soprattutto sulla storia recente, può diventare a volte fastidioso, discutere su una cosa teoricamente leggera come un film e una serie tv dovrebbe essere quanto di più divertente possibile, sempre, ripeto, se la si prende per quello che qualcuno invece la prende come se gli stessi insultando la madre, ma non è questo il problema. Ad ogni modo, proprio perché la prendo come un divertimento, non mi sono mai fatto problemi a parlare in maniera molto diversa rispetto a quanto ho fatto da altri di un film e di una serie tv. C'è un film che è piaciuto a tutti e a me invece no? Non mi faccio nessun problema a dirlo, e la stessa cosa ovviamente viceversa. Questo, alla fine, non fa che portare a discussioni maggiori e la cosa, secondo me, dal mio punto di vista, aumenta anche il divertimento. Ad ogni modo, una delle recensioni su cui ho ricevuto più critiche, perché il mio pensiero era diverso da quello della maggior parte di voi, fu la recensione della prima stagione di Ring of Power, degli Anelli del Potere, la serie tv Amazon dedicata al mondo di Tolkien. Una prima stagione che a quasi tutti voi a giudicare dei commenti non piacque, e in effetti poi leggendo anche le varie recensioni, alla maggior parte delle persone non era piaciuta, ma che a me invece piacque. Piacque per le ambientazioni epiche, piacque perché mi piaceva la carne che veniva messa al fuoco ed ero convinto che da quella prima stagione potesse uscire una bella serie, e piacque in generale per alcune scelte che mi erano piaciute, semplicemente, e che vi spiegai appunto nella recensione che trovate nella playlist in descrizione. Certo, quella serie aveva dei difetti, lo dissi anche all'epoca, alcuni personaggi non mi avevano fatto impazzire, alcune trame mi sembravano un po' troppo semplicissiche, c'era qualche salto temporale di troppo, ma in generale, contando che a me del rispetto, tra virgolette, del canone Tolkieniano non fregava assolutamente nulla, e io giudicavo la serie per quello che era, cioè una serie tv, a me, ripeto, quella prima stagione piacque e come. Mi sono quindi approcciato alla seconda stagione degli Aneli del Potere con tante belle speranze, la speranza di veder crescere, di veder cuocere questa carne che era stata messa sul fuoco, e come potete immaginare, dato che non vivo chiuso in una scatola di piombo, in queste settimane qualche spunto, qualche opinione qua e là, mi è capitato di vederlo, e ho notato che a molti questa seconda stagione è piaciuta molto più della prima. Bene, forse non voglio fare bastià contrario, come si dice dalle mie parti, ma è così, per me la cosa è stata esattamente l'opposto. Cioè questa seconda stagione, io ve lo dico già, a me non è piaciuta per niente, ma non è proprio piaciuta nulla, 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 e dovessi scegliere nelle puntate uscite qualcosa da salvare, vi giuro che farei fatica. È una stagione che dal mio punto di vista ha demolito tutto quanto di buono si poteva prendere dalla prima, ha tolto epicità, ha messo scene inconcludenti, ha ammazzato dei personaggi, nel senso che ha distrutto dei personaggi senza nessun motivo, perché ammazzarli assolutamente sembra impossibile, e in generale ha creato delle puntate che navigano nella noia, nell'imbarazzo e nell'inutilità. Ecco, dovessi dare un aggettivo per questa serie, ne darei due, imbarazzo e inutilità. Mi sono chiesto, ma sono io che sono fatto male, e che guardo sempre le cose al contrario, o forse qualcuno di voi la pensa come me a riguardo? E ovviamente, adesso mi metto qua, vi spiego qual è la mia visione su questa seconda stagione, e poi se volete ne chiacchieriamo insieme nei commenti. Quindi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, come vi dicevo in descrizione c'è la playlist, andando verso l'inizio trovate anche la recensione della prima stagione di Ring of Power, adesso sigla e poi iniziamo a parlarne. Parto col fare due premesse, la prima è che come sempre ci sarà una prima parte senza spoiler per chi la serie non l'ha vista, e una seconda parte con spoiler per chi ha visto la seconda stagione. Attenzione, perché parlerò anche dell'ultima puntata, anzi ne parlerò abbastanza dell'ultima puntata, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, ovviamente non guardatela. Mi anticipo già che la parte senza spoiler non sarà lunghissima, perché dovrò parlare di singoli eventi per poterli ovviamente commentare. Il secondo aspetto è che, come ho già accennato nell'introduzione, ma voglio ripetere, a me del canone tolkieniano non frega nulla, nel senso, a me Tolkien piace molto, peraltro il Silmarillion è da sempre la sua opera, anche se non è completamente sua preferita, insomma lo preferisco addirittura il Signore degli Anelli, ricordo che lo lessi ancora quando ero un bambino e inizialmente facevo anche fatica a farmi prendere, ma lentamente mi appassionava quel libro, e oggi è veramente uno dei miei libri preferiti in generale per lo spirito che ha, ma non me ne frega niente, sto guardando una serie tv e me la voglio godere come una serie tv, anche perché, come dissi anche all'epoca, per primo mi rendo conto che alcune cose, così come vengono raccontate nel Silmarillion, non sarebbero state trasformabili in una serie tv, un po' perché alcuni avvenimenti vengono raccontati abbastanza velocemente, solo per allusioni, un po' perché gli avvenimenti che palesemente vogliono essere raccontati in questa serie tv si svolgono in uno spazio di tempo lunghissimo, che ovviamente non è compatibile con una serie di questo genere, non si poteva fare la prima stagione con degli attori, la seconda con altri, la terza eccetera, perché ovviamente non avresti tempo di appassionati a quei personaggi, quindi francamente questa cosa a me non fa nessun né caldo né freddo. Io partirò dai protagonisti, così come sono stati presentati nella prima stagione, anche se sono diversi da Silmarillion, anche se sono diversi da come appariranno nel Signore degli Anelli, come nel caso di Galadriel, e andrò avanti provando a ragionare su quelli. Non vi va bene? Considerate che ogni variazione a Tolkien sia un insulto? Chiudete il video ed è stato un piacere. Partiamo però dall'inizio. Come vi dicevo, la prima stagione aveva aperto una marea di trame e sottotrame. Ora, alcune di queste palesemente, anche sapendo un po' com'è lo sviluppo dei Silmarillion, e sapendo che nel bene o nel male quella sarebbe stata la trama, alcune di queste erano palesemente importanti e si poteva immaginare che sarebbero state portate avanti durante la stagione e che avrebbero avuto un ruolo centrale. Altre trame però erano palesemente chiuse. Ad esempio, tutta la trama legata alla nascita di Mordor, quindi ad Arondir, agli uomini che erano fuggiti, eccetera, eccetera, sembrava essere chiusa. Cioè, ormai Mordor era stata creata, gli uomini erano fuggiti, sì, sì, c'era ancora Isildur che era disperso, eccetera, eccetera, però dava l'idea di essere una trama che non portava da nessuna parte, e questo valeva anche per altre sottotrame. Il problema è che gli sceneggiatori hanno invece deciso di tenere aperto praticamente qualunque sottotrama, anche a costo di infarcire le puntate di scene completamente inutili, che non servivano ad altro che dirci ah, guarda che c'è ancora quella storia che va avanti, e noi te la continuiamo a raccontare. I problemi sono due. Il primo è che, non avendo veramente ormai uno scopo queste ambientazioni, e ripeto, tutta la trama legata alla popolazione fuggita da Mordor, palesemente non aveva più nessuno scopo, non fa nient'altro che vedere delle scene che, mentre le vedi, ti dici ma sono veramente così importanti, e la puntata dopo lo sai per certo che non sono assolutamente servita a niente, e dall'altra parte queste scene non fanno che togliere tempo alle puntate stesse, con il risultato che le parti di trama, che sarebbero veramente importanti, vengono invece portate avanti molto velocemente. Ci sono eventi grossi, la seconda stagione ruota intorno alla creazione degli anelli, non è che non ne parlino di questi eventi, ma ci sono dei personaggi che hanno dei cambiamenti anche importanti nel loro modo di essere, di presentarsi, di rapportarsi ad altri personaggi, che avvengono fuori scena. Cioè uno inizia una puntata, vede una puntata in cui un personaggio compie delle cose, nella puntata dopo ne compie delle altre, viene detto a voce che è cambiato sulla base di chissà che cosa, ma non lo si è visto. Questo proprio perché non c'è tempo per mostrare tutte queste cose. C'è una certa fretta, almeno possiamo dire fino alle ultime due puntate, poi lì le cose un briciolino rallentano, ma neanche troppo, c'è una certa fretta di buttare ancora della carne al fuoco senza togliere quella che ormai è cotta, andrebbe mangiata e messa via. E tutto questo lo si vede anche con i personaggi. C'è una fatica incredibile a mettere da parte dei personaggi. Chiunque sia comparso su schermo, anche solo per delle parti secondarie, deve continuare a comparire, come se avessero paura di scontentare qualche spettatore togliendogli il suo personaggio preferito. No! In una serie così ampia, con così tante cose, non puoi lavorare solo ad aggiungere, devi lavorare anche un pochettino a togliere. A meno che tu non abbia a disposizione 150.000 puntate, allora fai quello che vuoi, ma devi lavorare un pochettino a togliere. C'è poi un grosso problema, cioè che tutte queste sottotrame aperte, nella prima stagione, venivano sostanzialmente presentate una dopo l'altra. Se ricordate, c'era la trama di Galadriel e di Sauron, che viaggiavano, Sauron ovviamente sotto mentite spoglie, attraverso la Terra di Mezzo, un viaggio a volte anche un po', per carità, da ottovolante, lo dissi anche all'epoca, ma tutto questo serviva ad introdurre le varie sottotrame, una per volta, dando un po' di tempo ad ognuna di queste. Bene, in questa stagione questo non succede. Praticamente ogni puntata deve avere un pezzettino di ognuna delle sottotrame, con il risultato che c'è un continuo salto da una parte all'altra del mondo, che crea anche un po' confusione, fa perdere di forza da alcuni momenti. Dall'altra parte, alcune di queste sottotrame, che, ripeto, non hanno niente da dire, e che probabilmente potrebbero essere chiuse anche solo in 20 minuti, mezz'ora nel corso di tutta la stagione, in realtà vengono frammentate in pezzi di 5 minuti qua e là, con il risultato di allungare il minutaggio e farti dimenticare anche che cosa hai visto. Anche perché, vorrei ricordare, queste puntate uscivano una volta a settimana, quindi ogni volta dovevano ridire ah sì, è successo quello, e tu perdevi sempre ancora del tempo. Insomma, dal punto di vista della trama, io l'ho trovata organizzata malissimo. Aggiungiamoci, ma ne parlerò poi dopo, che, secondo me, questa stagione perde completamente l'epicità che aveva la prima, che, ripeto, ogni tanto aveva un'epicità anche molto semplice, la carica di cavalleria che sbuca dal nulla per lottare contro gli orchi, ma che comunque aveva una sua epicità. C'erano questi scenari giganteschi, Númenor, quando appariva era meravigliosa, qui tutto questo si perde. Forse c'è un aspetto legato ad un budget un po' più risicato, questa è una mia impressione, ma in generale perde veramente tanto, tanto di epicità. Aggiungiamoci poi che se già nella prima stagione i costumi, le armature, avevano un che di plasticoso, ma per carità lo si accetta perché comunque è fantasy, in questa stagione tocchiamo delle vette di bruttezza assolutamente impressionanti. Ci sono delle scene con dei cavalieri elfici, alcune immagini le state vedendo, non voglio farvi nessun tipo di spoiler a cosa servano, che hanno delle armature che palesemente sono di polistirolo, cioè lo si vede lontano un chilometro, ma soprattutto degli elmi che sembrano le maschere per i bambini a carnevale, cioè della plastica che non ti entra neanche bene in testa e che quindi ti rimane un po' sollevata. È qualcosa di terribile e, giuro, 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 inguardabile. Poi, altre cose, altre cose che assolutamente non mi è piaciuta, sono le scene di combattimento. Ce ne sono di scene di combattimento, come c'erano nella prima stagione, assolutamente, anzi, sotto certi aspetti forse ce ne sono addirittura di più, ma non mi sono piaciute. Praticamente mai. Che siano scene di combattimento, con pochi personaggi che combattono contro pochi personaggi, che ho trovato quasi sempre mal coreografate, l'attrice che fa Galadriel, non mi riesco a rendere conto se non sia brava lei nelle scene di combattimento, ma ogni volta che c'è, le scene sono confuse, bruttine da vedere e alcune scene, non posso parlarmene, ma c'è nell'ultima puntata, alcune scene, vi giuro, sono talmente brutte che tra un po' vedi i fili che tirano lei nel momento in cui salta. Non sono riuscito a spiegarmi il perché di questa cosa, ma ne parlerò poi meglio nella parte con spoiler, ma sono brutte anche le scene di battaglia. Ci sono delle scene di battaglia abbastanza grande, abbastanza grandiosa, ma anche queste sono coreografate male. È brutto il modo in cui la battaglia viene presentata, ci sono degli artifici che la rendono veramente ridicola, ma ancor di più gli scontri veramente brutti, brutti, brutti. Forse, per carità, sono ben abituato da altre serie, ma qui siamo veramente caduti in basso in una maniera terribile. È brutta la scrittura dei personaggi. È brutta la scrittura dei personaggi. Ora, tante persone si erano lamentate che nella prima stagione veniva presentata, ad esempio, una Galadriel quasi bambì, quasi ragazzina, preda di passioni, dei personaggi a volte un po' tagliati con l'accetta, ma qui i personaggi fanno di peggio. O rimangono delle specie di manichini che vengono spostati di qua di là nelle scene senza nessun motivo, oppure semplicemente fanno quello che vogliono cambiando una puntata all'altra. E se, dato che, come vi dicevo, l'evoluzione del personaggio non viene mostrata, ma solo raccontata, non si riesce neanche a capire il perché tutto questo sia avvenuto. E non ci si riesce ad appassionare i personaggi, non si riesce ad anticipare quello che faranno, perché ogni volta possono semplicemente cambiare completamente la loro opinione. Questo non vale per tutti. Questo non vale per tutti. Ci sono alcuni personaggi, secondo me, abbastanza ben scritti e il mio preferito, lo dico per come è stato sviluppato, anche se so che dal punto di vista del canone è odiatissimo, è Adar, che secondo me rimane un bel personaggio, ma anche lui viene molto molto maltrattato. Ed in che questo ne parlerò dopo. Mi spiace continuare a rimandare alla parte con spoiler, ma ovviamente non posso fare diversamente. Insomma, chiudendo questa parte senza spoiler, io in questa seconda stagione non ci ho visto niente di buono. No, vi giuro, faccio fatica a salvare qualcosa di buono, qualcosina, eh, qua e là, ma veramente poco, 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 poco. È una stagione che mi ha annoiato, cosa che la prima non aveva mai fatto, ed è una cosa terribile. Ci sono delle parti che ho detto che palle perché non andate avanti, smettete di parlare, ci sono i classici dialoghi che non finiscono più, in cui ripetono, ripetono le stesse cose, in cui pensano che per dare forza ad un discorso sia necessario parlare lentamente così. Questo non dà forza. Questo funziona se devi dire tre parole, ma se devi fare un discorso, annoia lo spettatore che dice ma vai avanti, finisci sta frase, se no non andiamo più a vedere cosa succede ancora. Quindi mi sono annoiato. Ho trovato delle parti confusionarie, ho trovato delle sottotrame che nella prima stagione mi erano piaciute, qua finire nell'inutilità completa, ho trovato personaggi diventati inutili che sono stati portati avanti, ho portato dialoghi a volte veramente imbarazzanti, e non ho sentito quella dannata epicità. Ho visto una battaglia che teoricamente doveva essere quanto di più epico questa stagione, doveva offrire venire devastata. Ho visto l'apparire di un personaggio che tutti, sapevamo già dalla prima stagione che sarebbe apparso, avvenire nell'ultima puntata, nel giro di due minuti, avvenire, scomparire, senza lasciare praticamente nulla. Insomma, una stagione secondo me terribile, e io non so esattamente chi ci ha trovato tutta questa bellezza dove diavolo l'abbia vista. Se a voi è piaciuta, fatemelo sapere, perché sono molto curioso. Adesso però, fine della parte senza spoiler, perché è già stato complicato parlare delle cose senza poterle citare, passo alla parte con spoiler, per chi la serie l'ha vista, attenzione perché farò vari salti e ovviamente arriverò anche a parlare del finale, anzi del finale parlerò parecchio, cercando di parlare un pochettino di tutte le varie sottotrame. Quindi, come dice sempre Paolo Bitta, uomo avvisato, uomo avvisato, fermatevi qua se non avete visto la serie, altrimenti andiamo avanti. Parto con il dire una cosa che secondo me, allora, come oggi, scontenterà molti, cioè che una delle sottotrame che a me nella prima stagione era piaciuta di più era quella assolutamente scontatissima di Gandalf e dei pelopiedi, di questa specie di Hobbit primitivi. Che cos'è che mi era piaciuta? Beh, ovviamente non è che non mi era piaciuto il nascondere la figura di Gandalf, anche perché, e lui come viene rivelato nell'ultima puntata, ma la cosa era assolutamente già evidente, c'erano tutta una serie di indizi che rendevano chiaro che lui fosse Gandalf già dalla fine della prima stagione. Mi era però piaciuto molto lo spirito in cui erano stati raccontati questi Hobbit primitivi. Io avevo trovato quella rappresentazione dolce e molto, molto, molto bella. Questo loro essere dei continui migranti, il modo in cui erano costruiti i loro campi, il loro viaggiare e il dover lasciare indietro chi non si fermava, il modo in cui veniva raccontata un po' la loro mitologia, a me era piaciuta. E alcune scene le avevo trovate veramente molto, molto belle. Lo stesso straniero Gandalf, secondo me, si incastrava bene all'interno di questa trama. In questa seconda stagione, questa sottotrama è stata devastata, completamente. Nella prima parte, nelle prime puntate, il viaggio di Gandalf con le due pelopiedi era quanto di più inutile esistesse al mondo. Vedere questi che viaggiavano attraverso il deserto, inseguiti da cattivi X con una maschera, che vi giuro sembravano i soldati del piede delle tartarughe ninja, ma che cosa mi dovrebbe lasciare? Niente. Ma poi che scene sono? Nel deserto manca l'acqua, ho fame, ma viaggiamo di qua, viaggiamo di là. Ma dovrei trovato l'acqua, dovrei trovato il cibo. Sono giorni che viaggi senza acqua e senza cibo. Come fai? Però non prendeva. Aggiungiamoci poi che erano forse le scene più abbandonate. Ogni puntata c'erano cinque minuti dedicati a loro, perché erano obbligatori, ma che non portavano in nessun modo avanti la trama. Per poi arrivare alle ultime puntate, alle ultime scene, in cui sbuca questo stregone cattivo, che ovviamente sta facendo di tutto per farti credere che sia Saruman, e io francamente spero non sia Saruman, perché sarebbe veramente molto tirata per i capelli, questa cosa, fanno vedere queste altre parte di proto-hobbit che non sono mai partiti per la contea, quindi ti danno quest'idea, che però anche lì non appassiona minimamente, cioè non è sviluppata, è buttata lì come curiosità senza motivo, e adesso e alla fine appunto arriviamo a Gandalf. Una rivelazione finale nell'ultima puntata, che lasciatemi dire, non era una rivelazione da mettere lì, perché ripeto, era una cosa che ormai sapevamo tutti, c'erano stati troppi indizi infilati perché potessimo avere dei dubbi, e quindi ormai non stupiva più nessuno. Poi all'interno di questa sottotrama ci hanno infilato anche la citazione, ci hanno infilato Tom Bombadine. Ora, una delle cose che mi ha fatto più disgusto di questa seconda stagione è che se nella prima c'era del citazionismo, voluto per dare delle contentini agli appassionati, qual citazionismo è diventato francamente esagerato, perché ce n'è troppo, troppo citazionismo del Signore degli Anelli, soprattutto di quello di Peter Jackson. Non serve che in ogni scena ci sia una battuta che mi rimandi lì, perché preferirei che la scena fosse coerente. La parte di Tom Bombadine io l'ho trovata completamente inutile. Ma cos'è? Il classico training montage, come si dice, dei film americani in cui un personaggio ne incontra un altro che gli insegna due cose e improvvisamente impara a fare tutto quello che non sapeva fare fino a quel momento? A cosa è servito infilare un personaggio nel genere che dice frasi a caso che peraltro non portano poi da nessuna parte e che per carità alla fine regala una bella scena finale, quella dove sono davanti al fuoco a cantare, ma che per il resto è completamente inutile. Peraltro Tom Bombadine è un personaggio difficile da rappresentare, proprio perché anche nel testo del Signore degli Anelli è un personaggio molto strano, che sembra veramente fuori dal mondo di per sé, tant'è che posso essere sincero, il fatto che non ci sia stato nella trilogia di Jackson secondo me è stata un'ottima scelta. Infilarlo qua a forza non serviva a niente. Insomma, questa sottotrama è passata da essere quella che io preferivo a quella che invece ho trovato completamente inutile. Potevano farla molto più in fretta, potevano farla molto più in fretta e francamente, secondo me, non serviva a niente. Altra sottotrama. La sottotrama di Numenor. Ah, qui veramente abbiamo toccato il culmine dell'inutilità. La sottotrama di Numenor, che in realtà è fondamentale, perché per lo sviluppo serviva che Alfarazzon diventasse ovviamente sovrano, è stata, secondo me, completamente devastata. Nel senso che in ogni puntata in cui succedevano delle cose legate ad Numenor, nella puntata successiva succedeva l'opposto e la cosa non dava fastidio a nessuno. Volete un esempio? Prendiamo il momento in cui la regina cieca torna, ci sono tutte le discussioni, eccetera, ma si decide di procedere ad incoronarla. Ok? Passano la puntata a caricare di questo fatto che lei voleva che arrivasse un'aquila come simbolo del fatto che gli dèi la proteggessero, eccetera, eccetera. Bellissimo. Caricano la scena, arrivano al momento dell'incoronazione, tutto sembra andare male quando improvvisamente arriva l'aquila. Bello, l'avete caricato, ma davanti all'aquila va Arfarazzon. Ora. Posto che se quell'aquila è lì per mostrare favore verso la regina, ti arriva davanti a Arfarazzon, gli dai una beccata, lo ammazzi e te ne vai e così dimostri quello che volevi fare, perché altrimenti stiamo dicendo che quell'aquila è una scema che è arrivata lì e non gli hanno neanche bene detto cosa doveva fare. Tu appari, fai quello che vuoi e vattene. Ma poi, Arfarazzon che va lì davanti, ma perché questa cosa? Ma non ci poteva provare a lavorare un po' di più dal punto di vista politico su questa questione? Ce n'erano di cose da dire, da fare, da intrighi? No. Semplicemente chiuso in questo modo che, ripeto, fa solo sembrare l'aquila scema e nient'altro. Pensavo che sarebbe stato il punto peggiore. No, c'era di peggio, perché poi quando la trama va avanti c'è la scena della regina che si sacrifica, che fa questo test del mare di fronte al mostro e ne esce vittoriosa, lì di nuovo ci sarebbe potuto essere un momento in cui si creava un aspetto politico. Arfarazzon scelto dall'aquila, la regina scelta dal mare, che in qualche modo lottano per il potere. No. Nella puntata successiva, bisogna dire che l'ultima puntata stravolge metà delle cose che sono state dette nelle puntate precedenti, nella puntata successiva, Arfarazzon chiama il solito concilio, le solite quattro persone, tira fuori un foglio che non sappiamo neanche bene cosa ci sia scritto sopra, è quasi un McGuffin praticamente, tira fuori questo foglio e dice ah, questo dice che la regina è d'accordo con Sauron, arrestate tutti. Ma così? Cioè senza un minimo di spiegazione, senza un minimo... Ma che cos'è questa roba? Cioè ma non potevate... Allora, nessuno vi obbligava a creare tutti questi avvenimenti. Volevate che Arfarazzon diventasse sovrano perché era necessario? Trovate un altro modo, non infilate tutte queste cose dentro per fare ogni puntata, arrivare alla fine puntata e dire oh, che cosa ho appena visto, che cosa succederà, se poi nella puntata successiva lo stravolgete. Perché date fastidio, date un dannato, fastidio e questa parte è stata veramente devastata. Io chiudo gli occhi e penso semplicemente che quello che è successo in questa stagione è che Arfarazzon ha preso il potere e ha cacciato i fedeli. Fine. Il resto a me non importa. Dato che siamo sugli umani e la cosa si aggancia, tutta la sottotrama di Arondir e Isildur dopo la nascita e la creazione di Mordor è una sottotrama, io lo dico, inutile. Inutile. A me non importa se in futuro quella donna tornerà, i due si innamoreranno, eccetera. Non me ne frega niente. È una sottotrama inutile. C'è quella scena in cui loro partono, vanno a camminare, esce fuori il mostro dalla palude, eccetera, eccetera, che è una perdita di tempo. È una dannata perdita di tempo. E questo lo dico nonostante a me il personaggio di Arondir fosse più a me piaccia. Anzi, secondo me, tra tutti i personaggi che interpretano gli elfi, nonostante la gente che si lamenta eh ma è nero, gli elfi non sono neri, chi se ne frega, quello è l'attore che interpreta meglio un elfo perché è altero, perché è retto, perché dà quell'aspetto quasi assolutamente disumano che un po' mi immagino che abbiano gli elfi che non sono degli esseri umani e non è semplicemente un umano con l'orecchia punta come gli altri. Insomma, è un bel personaggio che però è stato portato a fare una serie di azioni che non servivano nulla a nulla. Se semplicemente nella prima puntata Isildur si salvava, finiva il villaggio ferito eccetera eccetera ricompareva alla fine e Arondir partiva e andava a unirsi agli elfi come ha fatto ricomparendo alla fine tutto quello in mezzo non sarebbe servito perché io sfido chiunque a dire che la parte sugli ente non sia nient'altro che fanservice e sfido chiunque a dirmi che sia appassionato a questa ridicola e inutile storia d'amore tra Isildur e la donna che ha conosciuto che aveva già il fidanzato eccetera eccetera perché secondo me era una cosa inutile. Quante volte ho già detto inutile in questa recensione? Tante ma credo che capiate di cosa sto parlando. Avanti sotto trama dei nani ora la sotto trama dei nani è stata un po' dimenticata per le prime puntate è rimasta lì con Durin messo da parte che poi torna nelle vicinanze del padre ed era un po' un gran cazzeggio poi Kazadum che riceve il terremoto viene curata con gli anelli e vabbè lì diciamo che era un po' al servizio della questione creazione degli anelli a cui tra poco arriviamo. Il finale però era quello che teoricamente doveva ridare epicità. Ora a netto del fatto che nella penultima puntata c'è questa scena del nostro Durin quarto teoricamente Durin figlio chiamiamolo così il quale prepara l'esercito dice andiamo ad aiutare assolutamente gli elfi siamo pronti a partire e arriva uno insanguinato e gli dice tuo padre ha colpito con l'ascia i miei sta scavando devi andarlo a fermare altrimenti quando tornerai con l'esercito non ci troverai più da non troverai più una kazadum ora un singolo nano sta scavando sarà anche il sovrano ma parti tu insieme ad altri dieci guerrieri lo vai a fermare e nel mentre dici gli altri mille vanno a combattere contro gli orchi si funziona così non è che gli eserciti non possono essere divisi cioè non è una carta non è il cararmatino di risico un esercito è fatto da tante persone si possono anche dividere per avere dei compiti diversi qui no o tutto l'esercito rimane o tutto l'esercito va vabbè ma non importa non viene spiegata questa cosa nell'ottava puntata però appunto c'è Durin terzo che sta scavando che fa questo buco nel muro peraltro con cosa lo stia facendo non si capisce ma non importa una specie di ariete ma non importa questa gente non ha mai provato secondo me a sfondare a rompere della pietra perché non mi spiego diversamente sono convinti che le montagne siano fatte come le mura di un palazzo ad ogni modo sfonda questo muro va di là e c'è il balrog il flagello di Durin ora questa scena era attesa da due stagioni perché erano due stagioni che ti facevano capire che c'era questo balrog che stava arrivando eccetera eccetera e tutti a dire ma è troppo presto dovrebbe sbucare dopo eccetera eccetera quella scena è brutta è brutta perché personaggi fanno delle cose inutili il balrog arriva e vola giù e fino qua ok Durin terzo il re perché si sacrifica a cosa serve il suo sacrificio lascia lì l'anello che il figlio può prendere e va bene dopodiché prende un'ascia e invece di dire boh ce ne andiamo tutti mentre il barrog sta tranquillamente risalendo il muro si lancia in avanti con quest'ascia e colpisce la spada del balrog poi c'è un'esplosione quindi ma che esplosione cos'è esploso non importa va benissimo e tutta la montagna crolla ma cos'è? ma che scena è? ma cosa mi rappresenta? ma sto balrog cosa ha avuto? come è che si sono scontrati in questo modo? e lì perché far crollare la montagna? cioè non potevate crearlo diversamente tipo lui che si sacrificava per chiudere il buco e isolare il balrog a cosa serve che si sia lanciato in avanti con l'ascia? a nulla non serve a nulla peraltro la scena dura due minuti e quindi non sa neanche tempo di farlo un pochettino caricare e per di più nell'ultima scena in cui vengono elencati tutti i vari problemi che da quel momento in poi cazzadumà si dimenticano giusto giusto di avere un essere infernale in un buco che prima o poi uscirà anche perché nel crollo si vede che la protezione dalla stanza dove è il balrog a loro rimane un piccolo pezzo di roccia e il balrog si è visto avere una spada lunga 6 metri che pianta nella roccia senza problemi sai c'è un essere infernale giusto dietro il muro ma io non me ne preoccupo di questa cosa non è importante ma seriamente ma seriamente questo è lo sviluppo di questa trama poi lasciamo stare che a me i nani erano piaciuti in generale come sviluppo qua non esiste non c'è più niente ma non importa avanti perché le sottotrame sono infinite sottotrame degli elfi senza Sauron poi arriviamo anche a Sauron che praticamente è la sottotrame degli elfi nella prima parte nelle prime nelle prime puntate la sottotrame del faccio cose a caso giusto per creare delle scene esempio Sauron sappiamo che Sauron si sta andando da Celebrimbor beh l'essere più malvagio del mondo sta andando da un nostro alleato io mando due messaggeri con una lettera per avvertirlo mazza sei un uomo previdente anzi sei un elfo con migliaia di anni alle spalle che insomma è previdente sa come fare le cose dopodiché dato che non arrivano notizie i messaggeri non tornano decido di mandare delle truppe di sostegno quanto ne mando 500 1000 insomma dobbiamo lottare contro Sauron e non proprio con un pirla a caso no ne mando sei o sette mando sei o sette soldati in un viaggio verso Lindon verso Celebrimbor e per andare ad avvertirlo poi c'è tutta la scena legata a Tumurilandie altro fanservice inutile io a quel punto stavo dicendo tutto quello che non c'è stato nel Signore degli Anelli di Jackson ma che c'era nel libro lo stanno cacciando qui dentro perché è evidente ormai la cosa tra un po' sbuccherà Saruman nella contea perché manca solo più quello ce lo cacciano dentro una serie di scene completamente inutili e poi tornano indietro a cosa è servita quella parte di trama? a niente perché non ha portato a nulla se non far cadere Galadriel nelle mani degli orchi e sostanzialmente dire ok dobbiamo mandare l'esercito ma A quella cosa potevano farla subito B tutto questo viaggio nella terra di mezzo non è servito a niente C potevi trovare un modo molto più furbo di far cadere Galadriel nelle mani degli orchi anche perché dire cadere nelle mani degli orchi perché si sacrifica per combattere contro loro mentre gli altri scappano non ha senso perché palesemente quegli orchi erano lì erano lontani loro potevano scappare poteva scappare insieme agli altri senza che nessuno se ne accorgesse e invece non lo ha fatto solo perché per motivazioni di trama doveva cadere nelle loro mani avanti trama degli elfi Celebrimbor e Sauron anche lì mamma mia Sauron arriva alle porte di Celebrimbor e decide di rimanere lì ad aspettare Celebrimbor a cui Galadriel ha detto attenzione non ti fidare di lui ma non gli ha detto che è Sauron perché? perché altrimenti non poteva giustificare la seconda stagione lo lascia un po' lì davanti poi da bravo Piela lo fa entrare questo si trasforma di fronte a lui in una semidivinità e a Celebrimbor la cosa non crea nessun problema ora da lì in poi lo sviluppo del rapporto di per sé tra Sauron e Celebrimbor è interessante lo dico perché se io penso alla fine e penso al fatto di come questo rapporto si è evoluto di per sé l'idea era buona era interessante mostrare come Celebrimbor credesse lentamente ai suoi inganni come quegli inganni giocassero sul suo orgoglio sulla sua volontà di creare questi anelli per ingannarlo era un'idea buona il problema è che è stata mostrata male perché se andate a vedere l'evoluzione del loro rapporto non avviene mai all'interno di una puntata ma avviene sempre dopo la puntata tra due puntate e abbiamo la puntata in cui vengono creati gli anelli elfici devo essere sincero è un cambiamento di trama che a me non è piaciuto rispetto al Simarillion dove la creazione viene al contrario gli uomini i nani gli elfi perché toglie un po' di forza Celebrimbor ma pazienza deciso di farlo così non importa ma viene creato gli anelli degli elfi c'è la puntata in cui vengono creati gli anelli dei nani e ci sono le puntate in cui vengono creati quelli degli uomini ovviamente Celebrimbor diventa va sempre più in profondità in questa sua ossessione ma la cosa avviene tra una puntata e l'altra il personaggio cambia tra una puntata e l'altra l'unica cosa che ci viene mostrato è il momento in cui lui decide di non avvertire di quello che era successo il suo signore ma per il resto il cambiamento avviene fuori scena e caspita quello dovrebbe essere l'argomento principale da raccontare quel cambiamento come se dire che una persona si presenta in un modo in una puntata in un modo completamente diverso nella seconda e tu mi metti i titoli di testa per spiegarmi il perché avete presente quando all'inizio di episodio 9 di Guerre Stellari l'ultimo della serie viene detto è tornato l'imperatore Palpatine e uno dice ma scusami è tornato me lo dici così con tre righe bene la stessa cosa succede in queste puntate in cui non viene mostrato niente viene semplicemente raccontato ed è veramente un gran peccato mettiamo in pausa questo mettiamo in pausa questo poi peraltro devo dire che alcune scene le trovate noiose un po' stucchevoli ma non importa hanno detto che l'attore che ha interpretato Sauron ha fatto un lavoro incredibile io tutto sto lavoro non l'ho visto cioè è semplicemente fa le faccine fa il serio fa quello che gioca ma tutto sto lavoro io francamente non l'ho visto ma non importa arriviamo alla trama che a me continua a essere una di quelle che mi piace di più l'unica che continua a salvare visto che quella dei pelopiedi è stata ammazzata cioè la trama legata ad Adar ora io so che il personaggio di Adar è il modo in cui è stata raccontata la storia degli orchi a tanti non è piaciuta dicendo gli orchi sono il male assoluto vengono mostrati per quello che non sono degli esseri con dei sentimenti la famosi meme che vedo girare sulla famiglia di orchi eccetera eccetera ora posto che ripeto per l'ennesima volta me non me ne frega niente del canone di Tolkien a me invece questa scelta è piaciuta perché da un po' di profondità io non amo i cattivi che sono il male assoluto caspita siamo nel 2024 a me piace che ci sia un po' di profondità nei cattivi anche perché un cattivo che è tale perché è nato cattivo secondo me povero Cristo è fatto così è meglio secondo me un cattivo che lo diventa per qualche motivazione ma annetto di tutto questo a me la trama di Adar era piaciuta i suoi le sue motivazioni mi sono sempre piaciute questo suo amore per i suoi figli questo suo dall'altra parte temere Sauron che li potesse schiavizzare insomma in mezzo dei personaggi che si muovono un po' a caso Adar aveva sempre dato l'idea di essere quello che aveva un piano quello che era un personaggio approfondito profondo che è sopravvissuto peraltro anche al cambio di attore cosa non necessaria che non era detto che succedesse insomma era un personaggio che a me piaceva tanto e aveva avuto tempo in qualche modo di svilupparsi cosa che altri non avevano avuto il problema è che il suo destino si compie secondo me in una serie abbastanza strana nel senso che tutto quello che fa dal momento in cui cattura Galadriel sembra un po' a caso un po' vuole ammazzare gli elfi un po' vuole ammazzare Sauron un po' vuole che Galadriel si unisca a lui poi la imprigiona poi prende l'anello sono tutte cose che vengono ogni tanto buttate lì e non si prende più il tempo per poterne parlare e veramente il culmine viene raggiunto con la sua morte che arriva all'improvviso sì qualche avvisaglia di scontento c'era stato ma non c'è stato dato nessuno spazio per poter capire come Sauron stesse scavando nelle menti degli orchi è semplicemente successo un colpo di scena per dire oh guarda cosa ci facciamo all'improvviso ed è successo tutto così io spero a questo punto francamente che Adar sia morto anche se hai ammazzato un personaggio meraviglioso senza dargli poi in modo di completarsi è già solo la battuta finale sul fatto che Adar non abbia voluto dire chi fosse realmente dopo tutti le speculazioni che erano state fatte io temo che tornerà in vita ma temo perché veramente questa serie non è capace di lasciare morto nessuno ma è forse l'unico personaggio che mi spiace che sia veramente morto proprio perché qualcosa aveva ancora da dire ma in generale secondo me non gli è stato dato un po' di rispetto in questo suo finale la cosa peggiore però è che questo ha portato alla battaglia tra appunto orchi ed elfi che secondo me è stato uno dei punti più bassi più bassi di tutta la stagione ora quella battaglia potenzialmente aveva tutte le basi possibili immaginabili per avere dell'epicità ma è stata piena di cose fatte a caso lasciamo stare che gli orchi si presentano davanti alla città semplicemente dall'altra parte del fiume e in città non se ne accorge nessuno ma davvero cioè ma non hai non vedi sei un elfo non vedi cosa c'è dall'altra parte evidentemente no lasciamo stare che per giustificare come gli orchi riescano a superare un fiume per andare ad attaccare delle mura questi lanciano delle pietre lanciano delle pietre da delle catapulte verso un costone roccioso e queste pietre fanno crollare il costone roccioso in maniera così grande da riuscire a bloccare l'acqua del fiume ma se tu vedi quella scena e dici ma cosa vi siete fumati ma cosa diavolo vi siete fumati ma quanto è irrealistico quello che è appena successo lasciamo stare il fatto che delle pietre grosse così che ovviamente non sono esplosive faccia venire giù un intero costone ti dici ma stifabri elfici hanno costruito una città sotto un costone così friabile sono bei pirla lasciamo stare il fatto che il fiume è come mettere il tappo nel nel in una vasca cioè il fiume sbatte contro queste pietre e boh finisce lì scompare l'acqua no se metti delle pietre ad un certo punto l'acqua o sa la sufficienza per superarle o si sparge in un'altra direzione non è che scompare nel nulla non avete deviato il fiume cosa che avrebbe avuto anche senso avete fatto cadere delle pietre subito prima della città quindi l'acqua da qualche parte deve andare e quindi è completamente assurdo ma non sono quelle cose che un dice eh vabbè ma un po' di sospensione no sono cose che ti accorgi guardando che quindi ti danno fastidio poi ci sono i combattimenti all'assalto alle mura anche lì cose completamente a caso sfondano le mura tirando ma ma da quando ma non c'è avuto una riete normale come tutti i cristiani no attaccano e tirano ma perché ma perché ci sono scene orribili la scena forse che mi ha dato più fastidio di tutte è la scena in cui nella settima puntata se non sbaglio i cavalieri elfici caricano a tutta velocità contro gli orchi qualcosa che potrebbe essere un meraviglioso rimandare all'assalto al fosso di Elm quando improvvisamente Adar che in prima fila ma non importa scopre la cassa dove c'è Galadriel e gli elfi si fermano cioè una carica di cavalleria lanciata in campo aperto che inchioda perché io non so dire diversamente ferma di colpo il cavallo e si fermano a pochi metri di distanza dagli orchi quanto uccide l'epicità e soprattutto quanto è stupida questa scena aggiungiamoci poi che gli elfi hanno questa armatura che dicevo prima di polistirolo e capite perché tutto questo è assolutamente assurdo e inutile lascio stare tutto quello che avviene in città perché gli sembra che Sauron possa fare quello che vuole con chiunque perché una volta controlla la gente l'ammazza una volta fa vedere chissà che cosa però è così scemo da creare un'illusione che funziona a loop cosa che permette a Celebrimbor di rendersi conto di essere in un'illusione ma non so questa qua cos'era una citazione presa da Jim Carrey sapete quella scena in cui lui si mette a guardare nello specchietto retrovisore della macchina e vede passare le macchine in sequenza uno dopo l'altro e si rende conto quindi di essere in un mondo chiuso in cui sta venendo ripreso ecco era una citazione di quello perché altrimenti non mi riesco a giustificare una scena del genere quindi insomma quella parte è completamente da cancellare com'è completamente da cancellare secondo me gli ultimi minuti lo scontro tra Sauron e Galadriel non capisco esattamente dove volessero andare a parare Sauron un momento prima ha dimostrato dei poteri inimmaginabili con Galadriel sembra persino in difficoltà è uno scontro brutto 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 fatto di tutte scene frammentate in cui un personaggio muove una spada taglio l'altro personaggio muove una spada non vedi mai un vero scontro questo per questo dico che secondo me non erano capaci a farlo perché non mi spiego diversamente fateci caso ci sono delle scene in cui Galadriel salta in cui non salta viene trainata verso l'alto ed è orribile inguardabile e poi la conclusione vabbè lasciamo stare lei che crolla da un milione di chilometri dalla parete ma né si sfracella né niente rimane solo ammalata a causa di quello di aver toccato la di essere stata ferita chiedo scusa dalla corona che era di Morgoth insomma io credo di essermi già ampiamente divulgato non divulgato chiedo scusa dilungato non ho esattamente idea di quanto sia venuta lunga questa recensione io quello che voglio dire è che per me questa seconda stagione è stata qualcosa di terribile io alternavo la noia al disgusto la noia al disgusto e devo dire ammettere che tutti quelli che quando nella recensione della prima stagione dissi secondo me questa canna la sapranno sviluppare bene mi dissero guarda che secondo noi invece non andrà da nessuna parte mi spiace dire che avevate ragione voi questa seconda stagione non è andata da nessuna parte si può ancora salvare tutto questo boh io credo di sì bisogna avere il coraggio di tagliare qualche ramo Arondir altro personaggio meraviglioso nella settima puntata muore perché palesemente muore viene ferito mille volte nell'ottava puntata è vivo vegeto salta come prima e non viene data nessuna spiegazione fatelo morire perché se non vi serve più un personaggio fatelo dannatamente morire tagliate un po' di rami avete risolto il Gandalf bene via quella sottotrama ricombarirà quando servirà ma non serve più raccontarlo tagliate dei rami concentratevi su alcune cose tornate su una storia che abbia un senso e provate a portarla avanti così tutto questo per me non va da nessuna parte è solo caos fanservice citazioni e scene brutte altro io in questa seconda stagione francamente non l'ho visto e non mi importa che il nano che salta con l'ascia di fronte al balrog sarebbe un perfetto salvaschermo del mio computer perché se quella scena non mi ha dato epicità non mi lascerà assolutamente nulla come tutto il resto di questa stagione e con questo mi fermo veramente veramente tutto come sempre aspetto di sapere quali siano le vostre impressioni vi è piaciuta questa serie non vi è piaciuta vi è piaciuta questa seconda stagione o meno sono curioso di sapere cosa ne pensiate come sempre un grandissimo ringraziamento anche ad abbonati patreon e chi fa donazioni sul conto paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare ringrazio Claudio Gabbi grazie mille tantissimo per il tuo sostegno noi ci vediamo presto per recensire nuove serie tv nuovi film si spera decisamente migliori di questo settimana prossima recensiremo un cartone animato della nostra infanzia ve l'avevo già annunciato sarà è quasi magia johnny e sarò curioso di sapere se qualcuno di voi lo ha rivisto da quando l'ho annunciato oppure no e che cosa ne pensiate a presto ciao ciao ciao